Un po' d'amarezza perché arrivare al novantesimo sull'1-0 e poi prenderlo all'ultimo ti fa pensare che comunque qualcosa nell'arco dell'anno c'è da migliorare e di fatti ci alleniamo giorno per giorno per poter migliorare. Scendere non è assolutamente stato un problema per me comunque se non sarei venuto. C'è voglia di far bene e poter dimostrare che comunque in una società importante posso starci e spero di dare il mio contributo per poter, speriamo, vincere il campionato. Sicuramente la squadra è una squadra che può lottare per il vertice del campionato, sono tanti giocatori di esperienza e di categoria e però non mi sto trovando molto bene sia con i compagni sia con il mister. A rivali assolutamente no, a chi merita gioca e è giusto che ci sia la competizione. Vabbè ci sono tante squadre, Perugia, Benevento, tante squadre comunque che sono favorite, noi proviamo a dare il nostro contributo al campionato e poi vediamo. Posso giocare io? Sono uscito diciamo dalla primavera come un esterno di centrocampo a 5, ho avuto tutta la fascia, però sì non è un problema giocare sia dietro che da quanti, magari 4-4-2, non è un problema. Il mister mi sono trovato benissimo fin dall'inizio, sì c'è messo tante, ma poi grazie anche ai rapporti che legano il direttore del Napoli e l'Avellino siamo riusciti a concludere questa trattativa. Io sono qui per giocarmi il mio posto e ce l'avevo interrotto tutta per giocare e mettere le difficoltà da misa sulle scelte, quindi fin da ora, fin da subito devo dimostrare quello che valgo. Ma sicuramente partiamo per un campionato di vertice, sicuramente. Ora guardiamo partita dopo partita, concentriamoci sulla partita di Carrara e poi come ho detto un campionato di vertice sicuramente. È stato veramente bello, quando sono partito mi è servito tanto perché si impara molto, soprattutto dai compagni che sono fortissimi, dagli allenatori, dallo staff e tutto, quindi mi è servito tantissimo e ora devo mettere in mostra quello che ho imparato. Assolutamente buonissimo, mi sono trovato subito bene sia con il mister che con i compagni e tutto. Ma noi facciamo subito un brutto schermo. Però ho giocato lì, quindi sono in buona, diciamo... Buona fida per un voglio che lo facciamo, no? Speriamo.